Si è svolta la riunione convocata dal presidente Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la direzione scolastica con i dirigenti dell'ASL, dell'ospedale Santo Bono e i componenti dell'unità di crisi. Nel quadro generale di particolare gravità nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della regione verso il mondo della scuola. Ancora nelle ultime settimane, come già alla fine dell'estate, con lo screening di massa per il personale docente e non docente e l'acquisto dei termoscanner. È stata affrontata e discussa l'ipotesi della ripresa di didattica in presenza almeno per i primi due anni della scuola primaria ed è stato illustrato il dato epidemiologico che riguarda questa e le altre fasce d'età scolastica. Sulla base dei dati sull'andamento epidemiologico dell'unità di crisi delle ASL e del Santo Bono si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi dieci giorni. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie. È stata condivisa inoltre la necessità di utilizzare comunque questi giorni per prepararsi al futuro, in particolare in tema di trasporto pubblico. Il presidente De Luca ha informato i partecipanti che altri 250 bus di società private saranno destinate al trasporto con uno stanziamento di 4 milioni di euro e si lavorerà insieme anche per ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola. Nel frattempo proseguono i progetti scolastici per le fasce più deboli per la didattica di sostegno, per garantire un ampliamento dei congedi parentali per i genitori che già richiesto al governo e bonus destinati all'acquisto di tecnologie utili alla didattica a distanza. È stato importante, ha dichiarato De Luca, registrare un clima di grande collaborazione e grande senso di responsabilità fra tutti i partecipanti a questo importante confronto.